Di fronte al perdurare della crisi economico-finanziaria che ha colpito in modo particolarmente duro anche il vostro paese, non stancatevi di esortare tutti alla fiducia nel futuro, contrastando la cosiddetta cultura del pessimismo. Con queste parole Papa Francesco ha accolto in Vaticano i Vescovi della Conferenza Episcopale di Grecia in occasione della loro visita ad Limine Apostolorum. Lo spirito di solidarietà che ogni cristiano è chiamato a testimoniare nella concretezza della vita quotidiana, rimarcato il Pontefice, costituisce un lievito di speranza. Esprimendo soddisfazione per il riconoscimento giuridico della Chiesa Cattolica da parte delle competenti autorità, Papa Bergoglio non ha mancato di mettere a fuoco quelle realtà che meritano cure e attenzione da parte dei Vescovi Greci. La famiglia, anzitutto, con adeguati programmi di formazione al matrimonio, senza dimenticare il lavoro indispensabile con le nuove generazioni per la loro formazione cristiana. Una speciale attenzione devono ricevere poi anche le persone anziane, non di rado, sole o abbandonate per la dilagante cultura dello scarto, così come pure i migranti. Auspicando una sempre più attiva partecipazione dei laici alla missione evangelizzatrice della Chiesa, Papa Francesco ha infine invitato tutti a proseguire il dialogo interpersonale con i fratelli ortodossi, imprescindibile prospettiva per un futuro di serenità e fecondità spirituale per l'intera Grecia.